chiara ci racconta ogni martedì alle ore 16 un racconto per i bambini e il giovedì sempre alle ore 16 un racconto per tutti chiara ci racconta su www.noiframmentidisiena.it e nella pagina facebook noi frammenti di siena buonasera e benvenuti a una nuova puntata di chiara ci racconta dunque vi vorrei parlare stasera di curzio malaparte che in realtà non nasce con questo nome lui nasce come kurt eric su kert quindi diciamo famiglia chiaramente tedesca nasce a prato il 9 giugno del 1898 e morirà a roma il 19 luglio del 1957 pensate che in un articolo uscito nel 2017 i suoi libri sono ancora in libreria vendono e come se vendono quindi pubblicati quasi interamente da delfi e curzio malaparte è stato tutto una serie di aggettivi fascista anarchico comunista repubblicano libertario dandy paraculo ricco populista e così potrebbero essere 100 righe per per descrivere questo personaggio veramente particolare a lui è direttamente associata l'espressione dei maledetti toscani ed è proprio la parte che riguarda i toscani che che vi leggerò e per quanto riguarda la sua morte lui scrisse di questa sua eventuale e possibile morte a un certo punto vorrei avere la tomba lassù in vetta allo spazzavento per poter sollevare il capo ogni tanto e sputare nella gora profonda del tramontano e vediamo che cosa ha detto curzio malaparte dei maledetti toscani e maggior fortuna sarebbe se in italia ci fossero più toscani e meno italiani se è cosa difficile essere italiano difficilissima cosa è l'essere toscano molto più che abruzzese lombardo romano piemontese napoletano francese tedesco spagnolo inglese e non già perché noi toscani siamo migliori o peggiori degli altri italiani o stranieri ma perché grazie a dio siamo diversi da ogni altra nazione per qualcosa che è in noi nella nostra profonda natura qualcosa di diverso da quel che gli altri hanno detto o forse perché quando si tratta ad essere migliori o peggiori degli altri ci basta di non essere come gli altri ben sapendo quanto sia cosa facile e senza gloria essere migliore o peggiore degli altri nessuno ci vuol bene e a dirla fra noi non ce ne importa nulla e se è vero che nessuno ci disprezza non essendo ancora nato e forse non nascerà mai l'uomo che possa disprezzare i toscani è pur vero che tutti ci hanno in sospetto forse perché non si sentono compagni a noi compagno in lingua toscana vuol dire uguale o forse perché dove quando gli altri piangono noi ridiamo e dove gli altri ridono noi stiamo a guardarli ridere senza batter ciglio in silenzio finché il riso gela sulle loro labbra di fronte a un toscano tutti si sentono a disagio un brivido scende nelle loro ossa freddo e sottile come un ago tutti si guardano intorno inquieti e sospettosi un toscano apre la porta ed entra un silenzio impacciato lo accoglie una muta inquietudine si insinua là dove prima regnava l'allegria e la confidenza basta l'apparizione di un toscano perché una festa un ballo un pranzo nuziale si mutino in una triste tacita fredda cerimonia un funerale al quale prenda parte un toscano diventa un rito ironico i fiori si mettono a puzzare le lacrime seccano sulle gote le gramaglie cambiano colore perfino il cordoglio dei parenti del morto sa di beffa basta che fra il pubblico ci sia un toscano col suo risolino in bocca e subito l'oratore si turba la parola gli si gonfia sulle labbra il gesto gli si schiaccia a mezz'aria un generale parla ai suoi soldati di gloria di bella morte del bene inseparabile del re della patria se fra i soldati laggiù nell'ultima fila c'è un toscano che lo guarda subito il generale si imbroglia rinfodera la sciabola rotola la bandiera e se ne va e qui va detto che gli italiani le battaglie le vincono soltanto grazie al risolino ironico di quel soldato toscano laggiù nell'ultima fila quando non c'è quel risolino a metter posto a posto i generali accade quel che accade e quanti guai si sarebbero risparmiati se mussolini invece di parlare al palcone di palazzo venezia avesse parlato dal terrazzino di palazzo vecchio il sospetto e l'inimicizia degli altri popoli italiani e stranieri ci fanno senza dubbio onore essendo segni manifesti di rispetto e di stima in una stagione come questa di ipocrisia di viltà e di compromessi di ogni specie fa sempre onore a un uomo o a un popolo esser temuto e avversato vi sono uomini e popoli che soffrono di non essere amati sono quelli che a natura femminile ma una nazione forte spregiudicata ardita qual è la nazione toscana cui nessuno ha mai voluto bene che da secoli abituata al sospetto all'invidia altrui perché mai dovrebbe soffrirne tutti siamo noi toscani purché femmine e che gli altri non ci vogliano bene diffidino di noi abbiano gelosie e timore della nostra particolare intelligenza del nostro modo di guardare il prossimo e riderne a bocca fredda quando un altro che non fosse toscano ne piangerebbe che tutti insomma siano sospettosi di quel che essi impropriamente chiamano il nostro cinismo la nostra crudeltà la nostra garbata arroganza ci fa quasi piacere anzi per essere onesto dirò che ne godiamo ma quello di cui più godiamo è vedere come tutti italiani e stranieri si meravigliano del disprezzo col quale noi li ripaghiamo del sospetto e dell'inimicizia loro che non è disprezzo nato a caso né da repicco vanità né da orgoglio ma un disprezzo sentito e risentito allegro ragionatissimo e antico e basta guardare un toscano come cammina per capire di che stoffa sia fatto il suo disprezzo guardate come un toscano cammina cammina a testa rita col petto in fuori e le mele strette tira dritto guardando fisso davanti a sé con quel risolino sulle labbra che par dipinto tanto par vero si direbbe che non guarda e non vede come uomo che sta ai fatti suoi e di quelli degli altri non si impiccia eppure così camminando a testa rita gli occhi fissi davanti a sé guarda e vede tutto nemmai gli capita che guardi senza vedere perché il toscano vede anche senza guardare non sorrite per grata amabile disposizione dell'animo né per orgogliosa compassione ma per malizia e anzi dirò di più per spregio l'elemento fondamentale del suo carattere infatti l'essere spregioso il che nasce dal suo profondo disprezzo per le cose i fatti degli uomini si intende degli altri uomini in sé stesso il toscano ha fiducia pur senza orgoglio ma negli uomini nella pianta uomo no nella pianta uomo no in fondo credo che disprezzi il genere umano tutti gli esseri umani maschi e femmine e non per la loro cattiveria al toscano non fan paura i cattivi ma per la loro stupidità degli stupidi il toscano ha ribrezzo perché non si sa mai che cosa possa venire fuori da uno stupido guarda ti dico come come il toscano cammina guardalo e ti avvedrai che cammina come se stesse sempre sulle sue come un uomo che sa per antica esperienza che la cosa più aburrita al mondo è l'intelligenza e la più insidiata che tutti gli italiani siano intelligenti ma che i toscani siano di gran lunga più intelligenti di tutti gli altri italiani è cosa che tutti sanno ma che pochi vogliono ammettere e io aggiungerei nello specifico i senesi allora a proposito abbiamo pochi turisti qualcuno si sta muovendo ma non ce ne sono tantissimi allora come guida turistica in primis ma anche come cittadina di siena e come persona del mondo per favore quando i turisti torneranno non glielo dite più mai più mai mai più accidenta chi vi ci porta perché ora che i turisti non ce l'abbiamo lo capiamo quanto è importante invece che i turisti vengano a siena quindi benissimo essere toscani senesi ma accogliamo perché cormagis tibis è la pandit arrivederci alla prossima settimana e grazie a noi frammenti di siena ciao ciao